E' la Marina, che è tua mamma, vai, vai In Perù, digan che questa sera All'appuntamento con la nostra telenovela Per voi, la prima puntata di Smarina cerca la mamma La disfatto studio, ragazzi E' un grande E' proprio vero Rompi madonna, si sentiva da qui Ciao, sono Marina Sto cercando la mamma Non so dov'è la mamma Cerchiamo la mamma Ciao Marina Che fai? Sto cercando la mamma Non essere triste Vediamo se è in cabina Non c'è in cabina Un cabina Ciao Benvenuti Buona sera All'appuntamento con la nostra telenovela A voi, la settecento e la seconda puntata di Smarina Cerca la mamma U, a, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a Ciao Marina Cosa stai facendo? Sto cercando la mamma Vediamo se è in cabina Non c'è cabina Cabina con una B E' zitto E' zitto Vediamo se è al bar Non c'è al bar Andiamo a cercarla E' zitto A, u, a, u, a, u, a, u, a E' zitto E' zitto E' zitto Alla solita puntamento con la nostra telenovela E per voi La mamma Che cerca Che cerca C'è il tetto Per la puntata 820.000 U, a, u, a, u, a Ciao, sono Fabrina, sto cercando la mamma. Dov'è la mamma? Ciao, Fabrina, che c'è? Che cos'è successo che sei così triste? Che stai facendo, Fabrina? Sto cercando la mamma. Vediamo se la mamma è in... Fabrina! Non c'è Fabrina. Vediamo se è al bagno. Non c'è al bagno. Vediamo se è nel bagno. Non c'è il bagno. Vabbè, non piacere, andremo a cercarla. Questo è ma la 820.000 ha detto? Benvenuti con il sera, la nostra puntata è la solita, a voi Marina, c'è la mamma puntata a 257 miliardi. Ah, c'è il bagno? Ma per la mamma c'è? Ciao, sono Marina, sto cercando la mamma. Dov'è la mamma? Marina, perché piangi? Che è successo, cara Marina? Sto cercando la mamma. E dove può essere la tua mamma? Non lo so dove c'è la mamma. Vediamo se è in cabina. Non c'è in cabina. Non piangere. Vediamo se è al bagno. Non c'è al bagno. Vediamo se è al bagno. Non c'è al bagno. Vediamo se è al bagno. Non c'è al mare. Allora, andiamo a cercarla. Non c'è al bagno. Dov'è la mamma? Dov'è la mamma? Sì, non c'è al bagno. Si cambia, scusa. Ciao mamma! Ciao Marina! Dov'è il pedo? Allora, andiamo a cercarla.